cari amici buongiorno eccoci qua puntuali puntualissimi ore 11 canale trabucco tv per questo streaming live questa diretta live usiamo parole come abbiamo imparato da piccoli per parlare di pesca fondamentalmente cominciamo con il discorso legato a circasting dopodiché qualora arrivassero delle domande delle questioni qualsiasi cosa a cui io sia in grado di rispondere ovviamente cercheremo di cercherò di di intavolare una chat con voi anche di altre materie di pesca rispondo subito intanto sono tutti quanti amici che sono già in linea e subito a claudio bortolotto claudio ho letto la tua domanda no in realtà noi abbiamo girato praticamente in tutte le spiagge che vanno da eh la zona di terracina fino alla liguria non abbiamo praticamente quasi mancato beh certo non tutte al cento per cento però diciamo un buon settanta per cento delle spiagge le abbiamo fatte abbiamo fatto diversi filmati chiaramente nella zona che va montalto di castro argentario feniglia giannella provincia di grosseto ma così che noi abbiamo girato a marina di san vincenzo a salire fino ad arrivare in liguria e inizia diciamo che tutto quel settore lo abbiamo girato eh abbiamo girato tanti filmati una leggera prevalenza nelle aree diciamo così a metà strada tra eh dove abito io Roma e dove abita Giannotta Policchi e molti degli ospiti che abbiamo chiaramente per una questione anche di praticità e non solo anche per un discorso legato alle catture mancanza di reti sotto costa perché spesso e volentieri trovarsi in certe spiagge come esempio accade nella zona in Versilia arrivare lì eh fare un bel viaggio come purtroppo accade a tanti appassionati e trovarsi con delle bellissime eh reti a cinquanta cento metri o duecento metri come c'è successo con una una barca che batte per far scappare le orate e infilare nella rete non è certamente piacevole quindi la la tendenza chiaramente è quella di eh scegliere spiagge eh meno battute dalle reti sicuramente Pasquino Varrà si possono creare grovigli se si usa uno shock leader e un trave di diametro diverso ad esempio uno shock leader conico venti cinquantasette trave del quaranta no in linea di massima no eh se usi un trave del quaranta non ha senso usare uno shock leader del cinquantasette perché comunque il punto di debolezza eh nel lancio ce l'hai nella congiunzione tra quindi nel 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 clip di di congiunzione tra il cinquantasette e quaranta quindi se tu devi usare un trave del quaranta io utilizzerei uno shock leader del quaranta allora sicuramente non hai questo rischio nel caso specifico qualche possibilità di groviglio in teoria c'è ma fondamentalmente hai la possibilità eh un pochino più alta di andare a spaccare esattamente in quel punto Antonino buongiorno pesca ah spieghi le caratteristiche del piombo mig ventuno perfetto eccolo qua ho scoperto di averlo e io voglio ringraziare l'amico che me ne ha parlato allora mig ventuno innanzitutto per via di questa disegno particolare questa bocca particolare che può ricordare la presa d'aria di di uno e più aeroplani ora onestamente questo piombo mi è stato regalato l'ho usato qualche volta è un piombo che effettivamente vola bene eh io onestamente eh non sento il bisogno di avere un piombo di questo tipo vola bene sicuramente ha certamente una buona tenuta sul fondale a causa di queste asperità questi buchi che comunque fanno un po' da grippa che sicuramente sollevano sabbia quando andiamo a recuperare lentamente se vogliamo fare un po' di trainetta per prendere delle mormore la stabilità è indiscutibile eh è un'ottima idea e fa sicuramente onore a fonderia roma che la la prodotta la sviluppate la testata so che hanno fatto anche un piombo a palla forato sono andato a vedere certamente un piombo è un piombo che ha stabilità nel volo stabilità che è data probabilmente da questo cono eh ora da un punto di vista aerodinamico mi sembra un po' azzardato parlare appunto in un ambito in un consenso di di pescatori di appassionati di pesca comunque vedo che l'interno è molto levigato quindi sicuramente il flusso d'aria è stabile o relativamente stabile quindi è sicuramente un piombo che va niente da dire un'ottima una delle tante ottime idee avute dai dagli appassionati italiani dalle menti italiane fanno onore a tutti noi a tutti noi eh per avvicinarsi Umberto Forletta per avvicinarsi a questa tecnica cosa accorre? Qual è una buona combo per la spiaggia di Latina? eh la spiaggia di Latina? Do una risposta che mi fu data tanti anni fa mi fece anche un po' arrabbiare quindi ti chiedo scusa in anticipo ma è soltanto una una battuta eh devi scegliere un qualche cosa che ti faccia innanzitutto avvicinare la tecnica di pesca non serve comprare accessori particolarmente costosi non serve eh riempirsi l'idea di tremila cose è bello avere tante cose colorate ma all'inizio dobbiamo capire fondamentalmente se ci piace pescare dalla spiaggia quindi prendi una canna a quattro metri e cinquanta spendi poco un mulinello che costi ottanta un novanta euro al massimo lo carichi di filo guardi tutorial ti fai avvicinare ti avvicina qualcuno che già pesca di cui ti puoi fidare ti fa dare delle dritte e cominci a ad appassionare non ti sto a dire che devi comprare quel tipo di canna rispetto a quell'altra l'importante è che tu fondamentalmente capisci che quella è una tecnica di pesca ti piace sulla quale poi successivamente investirà il tuo tempo e anche chiaramente il tuo denaro eh fate grande informazione perché non parlate mai degli spot mi spiego meglio ci sono posti dove i pesci non girano proprio eh caro caro Lorenzo eh ci sono dei posti dove i pesci non girano proprio per mille ragioni mille ragioni che possono essere ti faccio un esempio eh c'è la spiaggia del famoso Marchese a Montalto di Castro che è una spiaggia straordinariamente ricca di pesce lo è stata sempre a un certo punto c'è stata un'alluvione un'alluvione gigantesca il fiore si è gonfiato ha allagato tutti i campi per almeno due anni la pescosità di quell'area è stata prossima a zero perché perché tutto quello che è calato in acqua dal fiume Fiora e dai prati che erano stati allagati ha di fatto inquinato completamente quell'area tenendo completamente assolutamente lontani pesci questa può essere una ragione l'altra ragione perché ci sono delle spiagge che effettivamente per varie ragioni non producono nutrimento naturale quando io arrivi a Grosseto nel 1989 le spiagge erano veramente povere erano passate le turbosoffianti eh dalla Campania avevano soffiato avevano distrutto e gran parte dei fondali erano stati completamente rovinati e da lì scarsità di pesce assoluta questa può essere un'altra spiegazione allora shock leader dello 040 regge un lancio inside Pasqualino varrà Pasqualino sì può reggere un lancio inside un 040 se usi un piombo al massimo di un 100 120 grammi non oltre e dipende sempre da che tipo di canna usi e con quanto quanta ehm quanto la carichi la canna e attenzione quali sono le giunzioni che fai i nodi che fai perché se i nodi indeboliscono ulteriormente uno 040 non stai lanciando uno 040 stai lanciando uno 035 e allora cominciamo a essere molto al limite ci sono tantissime domande farò fatica a stargli dietro mi scuso con quelli a cui non riesco a rispondere amici ehm buongiorno Roberto che importanza dai alla temperatura dell'acqua molto importante la temperatura dell'acqua perché stabilisce i cicli naturali dei pesci i pesci si riproducono anche in funzione della temperatura dell'acqua quindi eh guardate caso nei mesi gennaio febbraio tranne sarghi e qualche volta in pochissimi casi le orate oppure i predatori come le spigole nei mesi freddi nel nostro mare si prende veramente poco il grosso lo si fa quando il mare è caldo il grande pescate le si fanno a settembre ottobre novembre quando si raggiungono le massime temperature allora eh c'è Roberto Rockfish si mi piacerebbe parlare ma prima devo riaggiornarmi e fare delle sessioni di Rockfish ne ho già parlato con Jonathan per fare delle sessioni eh altra domanda da parte di Roberto Mosconi eh semmai abbiamo girato a Costa Verde Buggerro quelle spiagge lì no non abbiamo mai girato in nella spiaggia di Buggerro non ti nego che mi piacerebbe moltissimo ci ho pescato tanti anni fa sono dei posti straordinari devo andare a pescare Alessandro non esagerare non sei un mio apostolo semmai sei un mio amico gli apostoli lasciamo a qualcun altro e non credo che mi hai mai visto qualsiasi video girato nel medio basso adriatico no nel medio no nel basso adriatico girammo due filmati nella zona di Lesinovara Lesinovara durante una competizione organizzata da un magnifico gruppo di surfcasting su invito del carissimo amico Arturo Montagnese eh esche top per le orate zona torvaianica beh allora il granchio l'area Nicola e se c'è un po' di mare il cannolicchio senza dubbio queste sono quelle che secondo me funzionano meglio eh vi aspetto per un video a barletta eh va bene verremo a barletta allora intanto che le domande allora dopo tutto questo stop è mai successo prima ci sarà più pesce quando torneremo non credo credo perché continuano a mettere le reti continuano a mettere anzi in modo di indisturbato probabilmente staranno strascicando anche sotto costa anche se escono meno barche non credo eh onestamente troveremo più pesce me lo auguro ce lo auguriamo tutti quanti dove posso andare a pescare a spigole nella spiaggia sul litorale naziale vicino a Roma tutto il litorale di Ostia fino a torvaianica in caso di mareggiata è eccellente perché ho visto trascinare i divergenti i barchini e prendere le spigole meravigliose e differenza fondamentale a costantina andare a differenze principali tra pescare e volare eh beh sono due passioni eh che ti portano a vivere molto bene la il tuo tempo libero diciamo così nel mio caso anche il mio tempo professionale eh allora eh ciao Roberto cosa ne pensi di tecna oltremare veta allora ragazzi io non eh non voglio parlare di di in particolare di accessori soprattutto se non li conosco quella canna lì e la con la conosco parzialmente perché ci ho lanciato tantissimi anni fa andiamo a vedere qualcosa di pochino di fare dei passaggi però di tecnica abbiamo parlato del piombo abbiamo parlato del mig e un altro piombo di cui volevo parlarvi e non ne ho parlato dei giorni passati sono i piombi a spike abbiamo detto che determinati tipi di piombo e adesso ho lasciato ho lasciato nella busta lì non mi va di alzarmi tipo il cono la piramide sono piombi brutti e difficili da recuperare perché sono piombi che appunto hanno una grandissima resistenza al recupero una soluzione questa chiaramente valida per quelli che hanno iniziato da meno tempo e forse la conoscono poco è il piombo a spike la fio la forma è molto erodinamica addirittura la presenza di questa famosa sticella stabilizza crea delle distanze di lancio una stabilità di lancio eccezionale il piombo a spike questo è un cento trenta grammi credo cento forse forse di più centocinquanta grammi tranquillamente ha la stessa tenuta di un piombo di oltre 200 grammi di forma tradizionale questo vuol dire che se noi stiamo utilizzando un piombo da stiamo pescando con un cono da 100 grammi lo spike bastano 80 grammi se stiamo utilizzando un centocinquanta con uno spike da 120 riusciamo tranquillamente a stare in pesca chiaramente dobbiamo essere molto attenti che la gli spike gli aculei siano in condizioni di aprirsi con facilità perché altrimenti andremo a recuperare questa specie di medusa e abbiamo fatto un bel pastrocchio nel senso che poi abbiamo veramente difficoltà a tirarlo una volta che il piombo si libera dagli spike con attrazione costante mai a strappi abbiamo recuperiamo un piombo da una forma molto aerodinamica e facile da recuperare leggo qualche domanda allora sono male un consiglio per individuare meglio i settori di pesca allora ne abbiamo parlato già nelle altre dirette negli altri incontri le il settore di pesca vedo di fare un disegno se ci riesco ma non c'è neanche bisogno l'obietto noi dobbiamo avvicinarci alla spiaggia dedicare del tempo abbiamo una pescata davanti che può durare 3 4 5 6 ore abbiamo assolutamente bisogno di metterci a guardare il mare sia che sia calmo sia che sia mosso e abbia le onde quello che dobbiamo trovare è la frangenza allora se questa è la frangenza e in mezzo non c'è frangenza mi pare evidente che qua in mezzo l'acqua si è più profonda perché perché l'onda l'ho già detto varie volte ma è importante stressare questo tipo di argomento l'onda frange quando la sua altezza diventa è superiore alla profondità dell'acqua che ha sotto di lei a quel punto si rompe da dove non si rompe l'onda vediamo passare indenne vuol dire che c'è acqua più profonda quello è il famoso canalone come lo vediamo arriva il canalone vediamo una rientranza una serie di rientranza all'interno della spiaggia vediamo che la spiaggia ha il bagnasciuga ha un'inclinazione diversa una spiaggia piatta avrà un gradino di questo tipo significa che l'onda con tutta la sua potenza va a impattare contro bagnasciuga scava crea una sponda un pochino più ripida ed ecco questa è un'area in cui dobbiamo andare a cercare i nostri pesci davanti a noi a sinistra a destra usiamo due canne usiamo i nostri occhi facciamo degli esperimenti arriviamo lanciamo recuperiamo un piombo pian pianino con calma lentamente cerchiamo di assaggiare il fondale e sentiamo se il piombo rimbalza sul fondale allora stiamo in presenza di un fondale duro fondale arido dove non prenderemo pesci se prendiamo pesci li possiamo prendere con il flotter quindi pesci di passo nella parte alta sugheri boghe salpe occhiate aguglie quello che ci viene in mente se il fondale invece è morbido ed è trattenuto il piombo sembra trattenuto come se avessimo preso una seppia o un sacchetto dell'immondizia li dobbiamo pescare fondale fertile questo in estrema estrema sintesi mi rendo conto che sia una delle cose più difficili in assoluto di tutta la nostra tecnica di pesca ma fa parte del nostro bagaglio professionale imparare ad osservare il mare cercare di capire da che parte si muove la corrente se riesco a trovare il modo di farlo vorrei pubblicare un video in cui faccio vedere che ho fatto qualche tempo fa con il telefonino peraltro in cui spiego veramente il movimento della corrente spiego veramente riesco ho trovato una situazione ideale quelle proprio perfette come dire beh c'è un solo posto dove pescare che è esattamente quello qua davanti a me e l'ho ripreso e cercato di spiegarlo pesca in spagna che ne pensi la luna in pesca ne abbiamo già parlato anche nell'altro nell'altro incontro live di qualche giorno fa anzi vi voglio assolutamente incredibilmente ringraziare perché siamo arrivati quasi ad avere a passare le 18 mila le abbiamo passate le 18 mila visualizzazioni che è veramente un numero spaventoso veramente spaventoso vi ringrazio di cuore luna in pesca allora non è facile perché appunto secondo una tra secondo alcune tradizioni la luna è positiva secondo me bisogna andare in la luna piena non lo è mai dalla spiaggia soprattutto se il mare calmo se c'è mare mosso ce ne importa relativamente poco luna piena mare mosso significa massima escursione di marea significa onde ancora più potenti e sicuramente il una situazione valida in mare calmo la luna piena assolutamente la trovo personalmente molto negativa tutte le fasi di una crescente sono sicuramente fasi fasi positive l'importante è cercare di ricordarsi che gran parte di questa pesca si sviluppa seguendo le tavole di marea ci sono due fasce due fasi che sono negative e altre fasi che sono positive le fasi che sono negative e sono quelle a metà della discesa di marea dal culmine verso il basso lì si prende raramente qualche cosa e nella prima parte di risalita di marea si prende poco le fasi secondo me molto positive sono il culmine di bassa che regala spesso dei bellissimi pesci e le tre quattro ore tre ore attorno al cappello di alta quindi se questo è il cappello di alta praticamente tre ore prima un'ora dopo tre ore prima un'ora dopo il culmine di alta questo è sicuramente un momento buono leggo qualche qualcuna delle vostre domande sono veramente tante vediamo un attimo fai tanti diretti se cerca se ne sto facendo tante non vorrei essere assolutamente noioso anche perché ragazzi ci sono tanti argomenti da trattare ma poi alla fine ci concentriamo sempre sugli stessi va bene la profondità la profondità la profondità la profondità nel sarcastic è molto relativa e a questo proposito voglio parlarvi poi di una cosa che mi è stata proposta l'altro giorno una domanda che è ricorrente che riguarda i colori per quanto riguarda i terminali per quanto riguarda il filo che significato hanno i colori per farlo basta andare a vedere quella che è il il codice colori colori si muovono su una determinata frequenza esiste una tabella che ci riporta la visibilità dei colori in funzione alla profondità dell'acqua il colore meno visibile quello che sparisce per primo diciamo così è il colore rosso circa 5 6 metri questo questa tabella chiaramente risente fondamentalmente di due fattori primo della posizione del sole chiaramente se il sole a picco è una cosa se il sole è al tramonte all'alba è un'altra indicazione che influenza questa visibilità in acqua secondo ovviamente la trasparenza dell'acqua quindi la presenza di particelle sospese ma diciamo in una condizione ideale il primo colore che sparisce è il rosso il secondo colore che sparisce è l'arancione dopodiché il terzo colore è il giallo ecco perché da tempo stiamo proponendo colori che abbiano queste tonalità questo è un rosa carico è un tipo di colore che praticamente già a pochi metri di distanza ma maggiormente man mano che la luce cala diventano invisibili quindi l'ultimo colore che sparisce per quanto riguarda la vista la nostra vista e la frequenza in genere è il viola il penultimo è il blu quindi tecnicamente avere dei fili blu dei finali blu o dei finali verdi significa avere un qualche cosa che nei 3-4 metri massimo in cui normalmente noi peschiamo significa avere un qualche cosa di particolarmente visibile questo è per quanto riguarda i colori ciao Roberto io al posto delle perline di vetro per creare gli snodi sul trevo utilizzo perline fosforescenti ci sono controindicazioni? secondo me assolutamente no a me piace utilizzare le perline trasparenti oppure colorate ne ho qua diverse sono quasi tutte di colore bianco eccole qui con cui ci faccio i miei travi mi trovo benissimo anche perché ho la possibilità di disporre di perline di diametri interni molto selezionati molto precisi e accurati che mi permettono di fare travi dal 33 diciamo così al 45-50 un'altra soluzione che a me piace sono le cosiddette tecnosfere sicuramente sono un'idea meravigliosa forse ne ho un no non ce l'ho qui le tecnosfere mi sembrano un modo veramente carino e elegante di pescare per pescare domanda Roberto un tuo parere su attrattori e piombi UV piombi UV sicuramente positivi la possibilità di tenere illuminati su grandi fondali di notte è certamente positiva nello stretto di Messina con il mio amico Salvo Bonacorso e Peppinalesi pescavamo con vernici UV illuminavamo i piombi e riuscivamo a catturare per quanto riguarda gli attrattori potrebbero anche funzionare ma credo che sia veramente un cercare di forse di confondere un pochino di confondereci un pochino l'idea rendere la nostra pesca più complicata di quello che è effettivamente i travi cercasti allora buongiorno Antonino buongiorno un consiglio per quanto riguarda i travi cercasti oppure pescafondo e per non fare grovigli e beh allora per quali sono i travi che noi utilizziamo normalmente quali sono i nomi standard dei nostri travi partiamo dal più semplice che è il long arm long arm è un bracciolo un bracciolo eccolo qua lungo quanto? da un metro, un metro e mezzo due metri long arm, braccio lungo poi abbiamo gli short che ovviamente come dice la parola sono più corti quindi diciamo sotto il metro 80 centimetri massimo un metro se di long arm ne usiamo uno solo di short ne possiamo usare addirittura tre e fare dei travi come quello che vi ho fatto vedere più volte nelle dirette passate travi a tre vie a tre snodi la primo snodo è questo qua attaccato al piombo il secondo è 80-90 centimetri più in alto il terzo altri 80-90 centimetri più in alto usare questo tipo di travi è molto comodo perché ecco questo è il terzo è quello che praticamente va al clip poi vi farò vedere un modo per fare questo tipo di nodo questa asola molto carina con questi travi ci si fa tutto con lo short si pesca il 90% dei casi dobbiamo solo decidere quanto lunghi sono i braccioli e quanti travi vogliamo quanti finali vogliamo mettere se dobbiamo pescare con uno con due o con tre con tre chiaramente dobbiamo avere delle canne adeguatamente lunghe perché dobbiamo lanciare comunque un trave lungo 2,40 metri più uno spezzone per il lancio diciamo 2,70 metri se sono travi da girella a girella di 80 centimetri e così andare 3 metri se sono da un metro un metro e un metro quindi canne un pochino lunghe diciamo 4,30, 4,50 4,70 se poi addirittura vogliamo fare un beach ledger in spinto possiamo usare anche le 5 metri come la Cassiopeia 5 metri che ci permette veramente di coprire tantissime situazioni scusate di pesca altro trave quindi abbiamo detto gli short gli short hanno la bellissima caratteristica possiamo usare 2 floater ad esempio 3 floater non ne userei al massimo 2 comunque un consiglio che mi permetto di dare a tutti quanti quando usiamo il floater è il diametro del floater del filo del floater deve essere leggermente superiore a quello che usiamo normalmente perché quando andiamo a a mettere uno di questi sul nostro finale per appunto ottenere ottenere galleggiabilità della nostra esca eccolo qua abbiamo bisogno di un qualche cosa che sia un pochino più resistente ai grovegli ok? quindi se siamo pescando con lo 0,18 andiamo tranquillamente a montare un floater e lo 0,20 0,22 non dobbiamo farci tanti problemi cattura assolutamente in modo identico chiaramente gli agonisti usano dei finali e delle misure diverse dalle nostre ma il loro scopo è completamente diverso altro trave che mi sento di dire che mi sento di consigliare mare mosso mare mosso paternoster che cos'è il paternoster? è sempre la stessa cosa è uno short quindi due o tre braccioli con la differenza che sono lunghi così sono 50 centimetri 60 centimetri abbassiamo un attimo il televisore perché sta cominciando a dare fastidio si è alzato da solo sono le magie metto dietro qualche cosa per fare un po' di colore chiaramente qualche onda fa sempre bene vederla soprattutto in questo periodo paternoster lo utilizziamo in condizioni di mare grosso siamo arrivati a usare dei paternoster con dei finali dello 0,40 ottenendo dei risultati molto molto positivi devo dire altro ultimo ne ho parlato tante volte è lo scorrevole ora l'ho accorciato rispetto ai giorni passati perché diventava mi rendevo conto più difficile vederlo anche se continua ad essere abbastanza lungo questo è chiaramente esageratissimo uno scorrevole lo scorrevole è praticamente shock leader questo una perlina salvanodo una girella il nostro trave finale in modo che tutte le mangiate che arrivano sul finale vadano direttamente sulla cima della canna e non abbiano alcun tipo di resistenza da parte del piombo il quale piombo è collegato attraverso una semplicissima girella scorrevole messo a bandiera e una cosa molto importante che vale tutte le volte che usiamo questo tipo di finali è che la lunghezza del finale quindi quella del lamo sia inferiore alla lunghezza del bracciolo dove è collegato il piombo fondamentale un altro aspetto il piombo deve essere collegato a uno shock leader dello stesso identico diametro altrimenti spacchiamo tutto altrimenti non funziona questo gioco altra soluzione per a lunga distanza ne abbiamo parlato anche nei giorni passati uno short che può anche essere un longarm l'utilizzo del bite clip bite clip è importantissimo possiamo usare addirittura doppio short clippato dobbiamo usare possiamo usare dei longarm lunghi un metro e mezzo con il bite clip l'importante è che il bite clip non sia troppo in tensione e dobbiamo essere sicuri che si vada a liberare vediamo qualche altra domanda una domanda riguardo lo short è possibile secondo te farci un trave da 3 metri e mezzo così da non doverlo fare sullo SL shock leader o una merita fesseria no non vedo la necessità di fare un trave di 3 metri e mezzo a meno che non uso una linea lunga ma se usa una linea lunga o un bracciolo lunghissimo che ha bisogno di un qualche cosa di molto importante dell'auto ferrata l'auto ferrata la si ottiene come? la si ottiene bloccando la scorrevolezza del trave che cos'è l'auto ferrata? e in questo entrano anche anche se sono nozioni molto da carfici entra in gioco la forma del piombo il baricentro del piombo il baricentro del piombo qua è assolutamente centrale quindi tutte le volte che viene effettuato un tiro una trazione praticamente si scarica sull'amo tutto il peso del piombo cosa che non avviene quando usiamo un piombo di questo tipo poggiato sul fondale il baricentro è indicativamente qua il filo è collegato in questo modo questi non sono 150 grammi di peso che vanno addosso al pesce lo saranno nel momento in cui il pesce tira in questo modo quindi noi solo nella linea lunga abbiamo bisogno di travi con piombo bloccato se usiamo lo scorrevole possiamo fare al massimo di una metrata un metro e mezzo se vogliamo pescare i predatori fermo restando che come dicevo in un'altra diretta è importantissimo quando peschiamo con esche pesanti molto pesanti possono essere grandi trancioni possono essere addirittura il vivo e a maggior ragione col vivo è molto importante rispettare questo equilibrio il nostro la nostra esca pesante deve essere messa su un finale più corto del piombo in questo modo riusciamo a lanciare senza che l'esca entri in rotazione se noi colleghiamo il piombo direttamente così e mettiamo un trancione grosso oppure ancora peggio un pesce vivo o morto che sia vedremo che lanciando questo pesce comincerà a girare e le nostre distanze di lancio saranno compromesse se noi riportiamo il piombo alla quindi attraverso una derivazione che può anche essere come accade quando si pescano i pesci molto grandi gli squali ad esempio un piombo a perdere noi si pesca con shock leader del 100 120 chiaramente il piombo non ha bisogno di essere caricato su un 100 120 non si spaccherebbe mai lo mettiamo su uno 040 045 al massimo ma direi anche 040 in modo che riusciamo a fare il lancio rispettando queste misure questa proporzione riusciamo a farlo volare bene nel momento in cui abbiamo la mangiata l'attacco del predatore appunto può essere un grosso predatore magari abbiamo qualche scoglio davanti partendo dal presupposto che certi predatori come possono essere i trigoni le razze grosse gli squali stiamo parlando di atlantico ovviamente partono e si portano via a 200 passometri di filo nella prima fuga quindi non sappiamo esattamente dove possono andare a parare possono effettuare delle deviazioni come è successo a meno persi diversi perché hanno girato probabilmente in modo involontario intorno a delle rocce e arrivederci grazie il piombo si va a incagliare spatti tutto perché non hai messo un piombo a perdere e questi sono praticamente i tipi di finale di travi che possiamo usare sempre tutto sta a usare i diametri allora diciamo che se parliamo di beach leggering possiamo parlare di shock leader dello 0.33 si se parliamo di surf surf casting medio condizioni generiche un mare che sta crescendo possiamo andare su uno shock leader dello 0.40 se parliamo di surf casting importante dobbiamo salire e arrivare anche a fare degli shock leader dello 0.60 0.65 senza tanti problemi perché perché lì cominciamo ad avere degli sforzi in gioco che sono che sono superiori che sono maggiori usiamo piombi più grandi sebbene abbiamo deciso di usare magari un piombo a spike non possiamo usare un piombo a spike con un 0.40 perché poi è un piombo da 150 intendo perché magari lo lanciamo anche male ma lo lanciamo non lo lanciamo sicuramente a tutta potenza ma probabilmente quando andiamo a recuperarlo rischiamo di spaccare qualche domanda ciao Francesco ciao Fabrizio va bene da Pomezia ma quando vieni a fare sarcastica a Toro Vianica ci sono stato ottobre novembre ci sono stato tantissime volte a Toro Vianica e mi sono anche molto divertito Fabrizio devo dire è stato bellissimo Cristian Vallati Robi a quando il car fishing ma vedo i prossimi giorni di farlo lo dovevo fare ieri poi ho avuto altri impegni qui di varia natura di natura professionale quindi chiaramente ma sto preparando delle cose sui righi o sulla storia del car fishing Luca Sereno qual è la giusta lunghezza dello shock leader lo shock leader deve essere lungo indicativamente almeno due volte e mezzo la lunghezza della canna così siamo tranquilli diciamo che gli shock leader conici riescono a essere molto molto più lunghi molto più lunghi però eccolo qua il mio shock leader questo è un mulinello un cast force che utilizzo nelle sessioni di surf medio medio pesante questo è uno shock leader dello 057 c'è un mulinello caricato con intrecciato e ci sono circa 20 metri di shock leader in nylon ho detto i giorni passati che quando si usa l'intrecciato nella bobina è preferibile utilizzare uno shock leader in nylon sconsiglio personalmente di usare uno shock leader in intrecciato se nella bobina abbiamo l'intrecciato perché manca completamente l'elasticità l'elasticità a quel punto potrebbe scaricarsi soltanto sul trave finale e in particolare sul bracciolino sul finalino col nostro amo e la canna a volte non è in grado e neanche la frizione in grado di ammortizzare potremmo andare a spaccare quindi laddove mettiamo nel mulinello l'intrecciato mettiamo una shock leader in nylon caso mai l'inverso mettiamo se vogliamo proprio usare una shock leader in intrecciato quindi molto sottile se abbiamo in bobina il filo di nylon vediamo un attimo quindi consiglio quindi consiglio un piombo a palla rispetto a quello piramidale sì in moltissime occasioni io personalmente consiglio un piombo a palla rispetto al piramidale ma è una questione di gusti personali io preferisco pescare con una soluzione del genere che ha un ottimo un'ottima tenuta e soprattutto mi è facile da recuperare facile da recuperare il piombo piramidale con i tipi di canna con i tipi di filo che abbiamo adesso nel mulinello mi crea onestamente personalmente un po' di di difficoltà poi ognuno fa la sua esperienza è chiaro che un piombo a piramide a 100 grammi ha una tenuta strepitosa ma va anche poi recuperato e se attaccato c'è una una mormora a volte manco te ne accorgi di avere la mormora con certi piombi che grattano sul fondo ha un aspetto molto importante molto importante abbastanza importante qualcuno ha mai fatto caso a qual è l'effetto che può avere un piombo quando il pesce è allamato e lo stiamo combattendo che il piombo spesso e volentieri fa esattamente questo quando si parla di mettere piombi molto pesanti ed è una mia teoria una cosa che porto avanti da tanti anni ovvero quella di usare il piombo minimo che ci permette di stare in pesca mai andare verso l'alto come esagerazione come peso ma tenerci sempre verso il basso proprio perché nel catfishing ad esempio dove abbiamo tutte le prede che vengono allamate sul labbro o nell'angolo del labbro uno degli aspetti che porta all'aslamata è questa oscillazione del piombo nel circasting i travi sono molto più lunghi però comunque questa oscillazione può anche essere amplificata e si va a ripercuotere sull'aggancio sulla tenuta soprattutto se abbiamo delle tenute superficiali quindi un piombo troppo pesante amplifica questa oscillazione e può portare e alla rottura e soprattutto alla slamatura provate magari non siete d'accordo su questa teoria va benissimo trecciato nage 8x 8x 010 più shock leader nylon conico 20 040 è una buona copiata è una copiata che potrebbe funzionare io 020 040 taglierei un pezzo di 020 andrei almeno allo 030 quando mi devo collegare a un a un intrecciato perché un nage 8x credo che sia l'equivalente almeno di un 15 libero un 15 libero e uno 035 quindi non dobbiamo creare angoli di debolezza e la debolezza è sempre nell'aggiunzione e quello più debole tra un intrecciato e il nylon normalmente è il nylon se il diametro del nylon è troppo più piccolo della tenuta dell'intrecciato si spacca tutto è molto probabile spaccare allora Cassiopea 130 grammi piombo o 90-100 grammi ma Shokrider che termina con lo 032 va bene sì direi che va va bene è abbastanza risicato nella potenza del lancio io magari metterei qualche cosina in più ma per mia sicurezza perché effetto cerco di effettuare quando sono a pesca per gli affari miei dei lanci caricando lateralmente quindi delle delle progressioni e a volte lo 032 non regge non regge la carica di un lancio laterale è un ground allora confronto differenza tra Cassiopea XTC e Impera B-Surf 200 guarda la Cassiopea è una canna più morbida della Impera la Cassiopea è una canna all-rounder assolutamente l'Impera è una bellissima canna soprattutto che io qua qui ho la versione 120 grammi quindi non ho portato qua in casa le versioni più alte ti faccio vedere la Cassiopea 200 che è una canna veramente ben disegnata come lo è l'Impera dall'altra parte completa in tutto e per tutto vogliamo analizzarla un attimino? allora cominciamo da così ne approfittiamo per parlare genericamente di canne le nostre canne da surf mulinello bobina fissa mediamente vanno dai 4 metri e 20 fino alla punta massima che è la 5 metri Cassiopea XTC da 5 metri per la pesca agonistica con multitrave vari cimini le canne quasi tutte sono in 3 pezzi abbiamo canne in 2 pezzi sono leggermente più corti al massimo arrivo a 4 metri e 10 se non ricordo male 4 metri e 15 nel caso della Cassiopea si 4 metri e 10 per quanto riguarda la Atene Evolution allora cosa dobbiamo vedere di una canna? dobbiamo vedere il range di lancio 200 grammi? ok vuol dire che questa canna la utilizziamo tranquillamente anche molto oltre 200 grammi è testata per pescare anche con un chilo nesca da un chilo ovvio che non lo utilizzeremo mai una canna del genere ha la massima performance di lancio a 150 grammi non si discute quello che dobbiamo vedere che può essere utile è un fattore di valutazione oltre alla qualità della placca porta a Molinelli e sui marchi c'è poco da fare no? Fuji è la tradizione e la storia sono gli anelli allora la distribuzione degli anelli è molto delicata la distribuzione degli anelli dobbiamo andare a vedere il tipo di legatura e se esiste si è stato messo come abbiamo preteso e ottenuto in collaborazione con la Trabuco che produce chiaramente queste bellissime canne di avere una cata rifringenza per avere visibilità a pesca si tengono le luci più spente possibili questo l'ho imparato dai pescatori delle canarie il tenere il faro acceso e puntare l'acqua significa rovinare gli spot davanti e nell'immediato sottoriva quindi si tiene la luce accesa si vedono le situazioni di pesca o con una starlight in cima oppure se non usiamo le starlight con la cata rifringenza che è garantita in queste canne è già inserita di suo addirittura vedete che il cimino quanto è visibile importante ho detto la legatura importante la forma degli anelli questo è un anello mi sembra che l'inchinazione sia intorno ai 30 gradi è una forma K ho già fatto vedere che significato hanno le forme K significa che quando lanciamo e si crea un cappio perché c'è il vento laterale che ci estrae troppo filo della bobina si può formare a volte un cappio intorno all'anello la forma K fa in modo che il filo scappi via vediamo se riesco a farvelo vedere un attimo prendo un pezzo di filo sempre che non mi incastro allora vediamo quello che voglio dire è che queste forme se l'anello fosse dritto non otterrebbe questo risultato questo è una cosa che esiste ormai da 15 anni circa 10-15 anni e disporre di questo tipo di anelli sicuramente garantisce la qualità della canna una cosa importante nelle varie canne nella scelta delle canne è appunto come dicevo all'inizio cercare di capire qual è la canna che più si adatta al nostro fisico al nostro modo della nostra qualità di pesca inutile comprare appunto una cassiopea o una impera o canne ancora più impegnative come può essere le canne in due pezzi se siamo agli inizi se abbiamo difficoltà stiamo imparando a lanciare non abbiamo capito che il lancio è una questione non di frustata in verticale con pochissimo tempo di caricamento ma il lancio è sempre una questione laterale e in questo vi invito a vedere tutorial in cui ci sono tecniche di lancio in cui la progressione fa sì che la canna si vada appunto a caricare gradualmente per arrivare poi al rilascio che deve essere molto alto 30-40-50 gradi diciamo che tecnicamente siamo sui 30 gradi realmente 30-35 gradi sull'orizzonte detto questo andiamo avanti con le domande ho un 200 grammi di che diametro devo fare ho una 200 grammi di che diametro devo fare lo shock dipende da che piombo stai usando 150 grammi diciamo che sicuramente è superiore allo 0-40-0-45 dipende dalla tua tecnica di lancio se fai un aero ground con una progressione un 0-45 con 150 grammi lo fai scoppiare se fai un lancio sopra la testa un 0-45 lo lanci senza nessun problema perché? perché nel lancio sopra la testa il tempo di caricamento è brevissimo diverso è se fai un lancio side un ground cast con un tempo di caricamento lungo allora il piombo da 150 grammi prende un'accelerazione che è 10-15-20-25-30 volte l'accelerazione di gravità adesso non mi ricordo più e chiaramente lo 0-40 poverino soprattutto non lo va a scoppiare quindi sicuramente una 200 grammi decidi che piombo vuoi usare in funzione del piombo se stai usando un 100 grammi appunto puoi usare uno 0-33 38 40 certo una 200 grammi con un piombo da 100 grammi lavora perfettamente bene è un po' sproporzionato e a Macana ripeto che lavora perfettamente tra i 125 e i 150 allora Roberto una cassipè 200 grammi quale mare possiamo affrontare visto che hanno un cimino molto sensibile il cimino molto sensibile nasce proprio dal desiderio di permettere una canna di 200 grammi di sentire le mangiate e le abboccate eccola qua una cassipè 200 il cimino è molto sensibile e le nuove versioni hanno addirittura accentuato questa la nuova versione del 2020 ha accentuato addirittura questa sensibilità perché il cimino non partecipa alle fasi di lancio partecipa alla parte centrale quindi intermedia e il manico nel lancio il cimino nel lancio è poco influente ma il cimino diventa fondamentale in due fasi l'avviso il modo di sentire le abboccate mi scappa la parola giusta e la possibilità di ammortizzare le fughe del pesce quindi senza problemi con un mare forza 4 forza 5 200 grammi se tu peschi nel settore giusto non hai nessun problema nessuna difficoltà proviamo a immaginare come era 30 anni fa quando ho iniziato 40 anni fa a pescare a surf io pescavo con delle canne telescopiche che se le vedi adesso non ci fai neanche legna d'ardere ovviamente canne completamente morbide flaccide senza capacità di lancio con fili enormi però mi ricordo appunto sessione meravigliosa a Badesi alla Baia delle Mimose dove quando c'era mare mosso andavamo a Badesi andavamo a Baia delle Mimose perché c'erano i canaloni e nei canaloni mare fortissimo tutto intorno impescabile ma nei canaloni pescabili con 120 grammi e con quelle canne stavano in pesca perfettamente allora Emery Emery vediamo se ho preso l'Emery questa è Cast Force mi ricordo se è questo farmi vedere Emery eccolo qua esatto un mulinello Emery è un mulinello che ha la possibilità assolutamente di essere utilizzato con l'intrecciato non a caso ora in questo caso è un filo di nylon con uno shock leader rosso per questioni di video non a caso sono state messe a disposizione eccole qua delle bobine coniche destinate a caricarci il Nage 8x 8x chiamatelo come mi pare 010 08 012 250 metri mettiamo sempre comunque una piccola base di qualche metro 3-4-5 metri di filo di nylon in modo da bloccare eventuali possibili rotazioni dell'intrecciato mulinello che si commenta da solo è stato sfiato apposta di ultima generazione è fatto per pescare con gli intrecciati è concepito per pescare con gli intrecciati ha una Cassiopeia 160 grammi che mulinello mi consigli che mulinello ti consiglio Lancer 6.500 massimo 8.000 6.500 questo è una una coppiata secondo me veramente veramente equilibrata facile lavora benissimo non è un mulinello pesante è un mulinello con una grandissima frizione soprattutto una qualità di imbobinamento e cosa importantissima una resistenza agli agenti atmosferici noi andiamo a pescare surf se abbiamo un mulinello di qualità scadente si inchiodono le frizioni dopo 10 giorni 20 giorni che non li laviamo devo dire che questo mulinello qua ad esempio è il primo che ho ricevuto ormai tre anni fa per i test questo mulinello appositamente ha subito soltanto un lavaggio un anno e mezzo fa perché ormai il test era completato ed è un mulinello che non ha nessun tipo di segno di impatto degli agenti atmosferici quindi la sasseline non gli ha fatto niente onore quindi a questo tipo di concetto materiali sicuramente ottime quella è la pesca in spagna Roberto quale per te la migliore forma di piombo per lanciare in ground secondo me i bomb tutte le forme a bomb sono quelle che hanno che filano via nel migliore dei modi per fare distanze solo distanze Michele Zanini canne 4,20 4,50 quando si sceglie l'una quando si sceglie l'altra 4,50 quando abbiamo un bel mare grosso dipende da noi dipende dal nostro fisico io non ci faccio neanche caso a volte quale sto utilizzando diciamo che tendenzialmente in condizioni di mare medio diciamo forza 3 da calmo forza 3 4,50 mare mosso uso una 4,30 una canna un pochino più corta ma senza senza dipende fondamentalmente da quanto siamo alti quanto siamo grossi io mi trovo bene con 4,30 4,50 non bene con le 4,70 uso le 5 per assurdo ma le 5 le uso per fare beach leggering con dei travi lunghissimi per divertirmi perché sono canne come una cassiopea da 5 metri che permettono un controllo della preda un ottimo lancio non eccelso naturalmente ma di pescare in modo molto sottile Roberto uno spot in Sicilia che ti ricordi con piacere dove hai fatto belle catture allora catture molto belle le ho fatte alla playa Catania catture molto belle le ho fatte ad Acamo in fondo spiaggia a metà spiaggia mi ricordo la prima volta andai con Peppino a lesi mi ci portò Peppino prendemmo dei balestri prese dei balestri ne ho preso solo uno mi sembra noi ho preso diversi perché sapevo esattamente dove lanciare e facciamo delle pescate bellissime inclusi meravigliose stella doppiette e triplette di aguglia è veramente una bella situazione di pesca ciao Roberto una presentazione in Pera è stata detto che è stata concepita per l'utilizzo del trecciato esattamente affermativo io solitamente uso il nylon mi incoviene prenderla funziona bene con il nylon assolutamente sì quando noi parliamo di una canna concepita con l'uso dell'intrecciato abbiamo concepito una canna che è leggermente più rigida rispetto alle consorelle ma ovviamente è utilizzabile benissimo con il nylon senza nessuna difficoltà gli anelli sono studiati per essere utilizzati con il nylon il tipo di azione per essere utilizzati anche con l'intrecciato ci sono degli anelli che si usavano soprattutto in passato che non andavano bene con le trecce perché la trecce tendeva a segarli gli anelli che montano le trabucco che mediamente sono i sicri torsite sono anelli che non hanno nessun tipo di problema e contro gli agenti atmosferici e contro l'effetto che può essere deleterio dell'intrecciato fammi vedere buongiorno Roberto non sto in Sicilia te l'ho già detto cosa pensi della linea longa ne abbiamo parlato l'altro giorno linea longa ottimo per una pesca di ricerca in immediato sotto riva 3 metri 5 metri triplo amo ho fatto vedere anche il tipo di nodo che utilizzo non lo sto a rifare perché il surgeon nod il nodo del chirurgo comunque se andate sul mio canale youtube trovate dei tutorial tra l'altro ieri mi sono un po' allenato a fare nodi a fare vari tipi di shock leader ne ho prodotti tutti questi e li ho filmati mentre li facevo adesso ci metto sopra la voce perché sceglierò quelli che sono i migliori perché ho fatto un po' uno studio sulle tenute degli shock leader cercando non tanto non avendo i macchinari cercando di studiare un attimino dai dati dell'International Game Fist Association che ha fatto questi studi cercando di capire quali sono effettivamente le tenute a titolo di curiosità qual è il nodo in assoluto più resistente esiste un solo nodo che a quanto pare secondo i test IGFA regge il 100% e si chiama GT ricordiamocelo Giant Trevalli può darsi GT Nodes tiene il 100% è l'unico adesso è qua in mezzo ed è questo tipo di nodo questo chiaramente non si vede nulla ve lo farò vedere in un tutorial tiene il 100% è il nodo più resistente al mondo di congiunzione tra un intrecciato e un filo di nylon al secondo posto c'è FG un nodo molto complesso da fare anche lì ho provato a fare un tutorial ma ancora non sono in grado di rendere veramente l'idea è un nodo che può essere semplicissimo da fare dopodiché ci sono vari tipi di nodi allora l'FG intorno all'80% di tenuta l'All Bright Special che è un nodo a cui io sono molto legato che è questo questo è un All Bright ha una tenuta intorno al 70% quando è fatto bene altrimenti scende All Bright al 59,4% incredibilmente è uno dei nodi che tiene che tiene molto e non tiene in modo diverso dall'All Bright ora non lo trovo magari è comunque il famoso nodo bruciato che si fa con la 100% che ha un risultato veramente buono no non sono riuscito a provare la carne Kamshin no no e io no mi dispiace mi informerò quando torni a girare un video in zona molt'alto pesce dimmilo che vi porto volentieri facciamo due chiacchiere grazie Giulio spero presto perché sicuramente noi dovremo appena finisce questa emergenza cominciare a girare perché il video che sta per andare in onda è l'ultimo che abbiamo girato l'abbiamo girato in Sicilia nel mese di gennaio mi sembra Jonathan magari mi può correggere con Peppino e Salvo dopodiché ci siamo chiaramente fermati quindi se non giriamo non avremo più niente da mettere online in onda sul canale Italian Fish in TV questo proposito vi ricordo che da giorno 14 su Italian Fish in TV e in contemporanea sul canale Trabucco TV andranno in onda a destinazione pesca la serie televisiva che abbiamo ideato e concepito è Gianna Tapolicchi e io nella quale sfido tra virgolette in modo amichevole campioni di ogni tipo di pesca dallo spinning al surf alla trainer alla pesca mosca alla pesca al colpo al feeder con dei piccoli pegni da pagare ma è tutto quanto estremamente cogliardico e appunto dal 14 è visibile un modo di raccontare la pesca che si coniuga anche con un modo di vedere il territorio che è dietro le nostre spalle qualche altra domanda il miglior nodo è quello fatto bene c'hai ragione Vittorio è inutile saper fare 300.000 nodi quando poi finiscono io mi ricordo che quando facevo i nodi avevo un censore implacabile che era il mio grandissimo amico fraterno Fulvio Monticone che è quello che ha creato la Graziosa che poi è stato a Cuba per tanti anni e adesso vive a Maio a Capoverde Fulvio ha delle mani che non ho capito come faccia ma qualsiasi filo di qualsiasi diametro gli mettevi tra le mani facevi un nodo ti faceva vedere che tan facendo così lo spaccava e se superava la prova Fulvio Monticone poteva andarci tranquillamente anche a squale perché non c'era pesce che l'avrebbe mai rotto e probabilmente basta poco lo sappiamo basta veramente poco fare male 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 i nodi bisogna farli sempre umidi bisogna farli in modo che le spire non si sovrapponga come valuti l'Emery 8000 please e questo non mi dico 8000 oddio questo è Cast Force dove l'ho messo l'ho messo l'Emery 8000 eccolo qua un ottimo muinello ottimo muinello eccolo qua eccellente l'imbobinatura la si vede assolutamente perfetta la persona che l'ha collaudato più di tutte tra i miei compagni di pesca è Daniele Berardi che l'ha usato proprio quello per farci il video che abbiamo mandato in onda su Italian Fish in TV oppure su Destinazione Pesca non mi ricordo e quindi chi meglio di lui lo possa valutare dunque già il fatto che un mulinello in bobini in questo modo e abbia questo silenzio questa morbidezza nel recuperare la frizione che senti che è micrometrica ci dà immediatamente idea della qualità di una qualità che ormai è assodata dobbiamo cominciare a pensare che non tutto ciò che viene dalle grandi aziende giapponesi e oro colato le aziende italiane hanno investito tanto e nelle canne secondo me hanno raggiunto in particolare la Trabucco un livello di qualità assolutamente top top di classe top di gamma non facciamoci impressionare se le canne possono costare anche di meno perché ci sono delle politiche di marketing in diverse rispetto alle canne straniere che non sono concepite per il nostro mare questo è un aspetto molto importante le nostre canne lo dicevo anche in altra diretta sono pensate concepite studiate da angler surfisti italiani pescatori italiani che pescano prevalentemente nelle nostre acque che poi le andiamo a testare anche all'estero questo serve ancora di più a valutare la qualità delle nostre canne quindi del lavoro che stiamo svolgendo c'è Roberto spero tornare dal Circeo con miglior fortuna l'ultima volta eh sì l'ultima volta non ha detto molto bene mare calmissimo pesci piccoli 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 però sono sicuro che il Circeo possa offrirci delle condizioni di pesca veramente buone io un'altra buco cattura a bici 120 grammi quanto sono importanti i tre cimini secondo te secondo me non c'è differenza beh i tre cimini hanno tre colori diversi quindi andiamo da light medium heavy chiaramente sono molto simili le differenze sono piccolissime intanto averne tre fa bene perché è un attimo è un attimo spaccarne uno anche se ormai i materiali rispetto al passato sono di qualità estrema e dipende dai piombi che usi io sicuramente con un light posso pescare con 50 grammi con un heavy con 50 grammi non ci pesco e pesco con 70 80 grammi tutto qua le differenze sono veramente piccole stiamo parlando di 20 grammi stiamo facendo parlando nel caso della cattura con tutte le canne di bicceleggere in multi tip stiamo parlando di canne veramente per specialisti che amano cercare quel tocco in più scendere di un filino al diametro e avere un mattia tedesco ti piace la pesca a mosca? pesca a mosca da 1974 ti faccio vedere una cosa questo mulinello è un mulinello già è tardi che ho comprato nel 74 e che ho usato per tantissimi anni allora ciao Roberto io ho un non la conosco posso usare il filo AB plus al posto del forro carbon? certo che puoi usarlo al posto del forro carbon che problema c'è? nessun tipo di problema allora volendo andarci alla playa Catania dove dovrei andare dato che è molto ampia? allora sicuramente una zona molto valida è la foccia del fiume Simeto ma io ho pescato in due settori della playa il primo molto a ridosso dell'inizio della spiaggia partendo da Catania molto a ridosso secondo un 4-500 metri più giù attenzione su una cosa nella stagione invernale è una spiaggia disabitata noi lasciamo la macchina lì lasciamo la macchina alle nostre spalle nonostante fosse in vista quando arriviamo su ci accorgemmo che c'era una piazza aperta il portabagaglia avevano frugato nella mia valigia io ero lì ero venuto in aeroplano e sarei ripartito da lì a poche ore e ci sono i ladri purtroppo ma questo accade in tantissime spiagge torvagliani che mi hanno spaccato il vetro della macchina perché non fai una sfida con Mario Molinari Mattia ma io con Mario Molinari la sida la farei ma non certamente per sfidarlo perché non mi permetto di sfidare un mio maestro di pesca è uno di quelli forse quello che più di tutti mi ha permesso di entrare nel mondo della divulgazione della pesca è lui che mi ha portato a fare video è lui che mi ha permesso di scrivere i primi articoli è lui che mi ha dato i primi consigli quindi pescare con Mario Molinari sarebbe una grande emozione un grande piacere perché no potrebbe sicuramente accadere viene a fare qualche video nelle marche sì sicuramente con Jonathan ne abbiamo parlato fammi vedere prima dell'emergenza ho comprato due non riesco a leggere che purtroppo i messaggi mi vanno via per la pesca la sera volendo legare il cavetto d'acciaio al floor carbon del bracciolo che non useresti userei sempre ed esclusivamente l'All Bride Special te ne faccio vedere uno se lo trovo esagerato naturalmente esagerato questo è un trave da squali con una model 8.0 bella metto lo diamo meglio rispetto alla mia mano naturalmente questo è un All Bride in cui collego un filo di nylon a un cavo d'acciaio è l'unico nodo che vedo possibile è affidabile al 100% per questo tipo di terminali questo tipo di congiunzioni ancora due e poi chiudiamo perché abbiamo detto un'ora dopo di che non voglio assolutamente diventare pesante anche perché oggi veramente siamo andati sono andato a braccio leggendo più che facendo la solita tiritera mia grazie salvo grazie Emiliano alla faccia dell'amo sì alla faccia dell'amo quello che serve è prendere certi pesci vediamo un attimo Roberto preferisci uno shot leader conico o uno shot leader monofilo indifferente se pesco pesante se sto pescando con pesci grossi shot leader sicuramente di un diametro unico 0,50 0,60 se sto facendo un surf di tutti i giorni tranquillo rilassato in cui punto orate mormore qualche sarago ma non ho condizioni di pesca veramente impegnative al massimo mi va bene un conico l'ho già detto io taglio sempre la parte iniziare del conico a me legare il 18 il 20 che ho in bobina al 18 20 dello shot leader conico e fare un 20 su un 20 non mi piace per niente quindi ne taglio un pezzo e faccio il 18 il 20 che ho in bobina che si va a legare a uno shot leader che minimo ha due gradini in più quindi un 22 e un 24 questo nodo mi dà un pochino più di sicurezza personale anche se faccio un nodo di sangue tra un 18 e un 18 per quanto bene possa essere fatto e come diceva l'amico prima i nodi vanno fatti bene non ho in realtà un 18 un 18 anche se faccio un gt notes probabilmente non ho un 18 18 ma c'ho un 16 16 mi sembra veramente di essere molto sceso ragazzi Antonio Moramarco facci sapere quando paddiger fishing vediamo di farlo domani se ci riesco comunque ve lo faccio sapere sui vari social parleremo di travi parleremo di erig di genesi delle rig parleremo di boilies non vi cucinerò le boilies in casa come ha fatto qualche simpatico amico come Mattia Travasoni ma farò altro e ragazzi intanto grazie grazie della vostra amicizia del per me è veramente un grandissimo onore poter avere questa chance di parlare con tutti quanti voi speriamo di vederci quanto prima in spiaggia decideremo con Jonathan quando rifare un'altra diretta credo che avverrà nei prossimi 3-4 giorni questo momento è l'unico modo chiacchierare insieme di è l'unico modo di trascorrere queste giornate veramente pesanti scoccianti forza ragazzi in gamba grazie ancora di cuore e dai ci vediamo ci vediamo quanto prima sempre in questo canale oppure sul il mio canale youtube oppure sui vari canali facebook trabucco o roberto ripamonti vi chiedo se volete vedere i tutorial andare sul mio canale roberto ripamonti youtube e lì ne trovate molti altri ne sto per mettere e dai continuiamo così e forza 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 un grande abbraccio a tutti voi le vostre famiglie che questo momento schifoso veramente termini il prima possibile possiamo cominciare veramente a a fare quello che è alle mie spalle andare a pesca passare il nostro tempo e cominciare a tornare a vivere in modo normale ciao ragazzi a presto